Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, minacce aggravate, violenze percosse nei confronti della compagna e lesioni gravissime nei confronti del figlio di quest'ultima. Sono stati i carabinieri della sezione operativa di Martina Franca insieme ai colleghi della stazione di San Giorgio Ionico ad arrestare un uomo del luogo. Presunti maltrattamenti in famiglia, minacce percosse avrebbero raggiunto l'epilogo quando l'uomo avrebbe iniziato a malmenare la compagna ed il figlio della stessa intervenuto in difesa della donna. Fino a quando, cercando riparo nella stanza da letto, l'uomo avrebbe tentato di abbattere la porta della camera e dopo esservi riuscito avrebbe colpito con un bastone il giovane per poi fuggire. Il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118 e ricoverato d'urgenza nell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Le ricerche successive hanno poi permesso di ritrovare l'uomo in un'abitazione in un altro comune della provincia di Taranto e dal termine delle formalità di rito su disposizione dell'autorità giudiziaria competente è stato rinchiuso nel carcere di Taranto.